Un libro, o meglio, il libro che mi è piaciuto moltissimo è stato Piccole Donne, come tanti altri insegnanti come me. Però da piccola, otto anni, un po' mi è stato regalato un'enciclopedia. E quell'enciclopedia c'era Miti, Leggente e Fiabe, ed è stato quello il testo che ho letto, praticamente erano duemila, tremila pagine, ho letto tutte le Fiabe, tutti i miti e credo che quello poi è stato il libro che, così è stato il motivo per cui sono diventata un'insegnante. Ritengo che amare il libro e far leggerlo ai ragazzi significa proprio quello, cioè significa trasmettere questa passione. Se tu ami la Fiaba, se tu ami un testo e lo legge ragazzi sei in grado di far capire l'oro e di farlo amare. Quindi consigli di leggere perché? Consiglio di leggere perché ti apre mondi fantastici. Grazie.